Approfitto un attimo per ricordare un nostro amico. Prima di parlare proprio del Memorial, il cuore mi dice che devo ricordare un nostro amico, un nostro amico che purtroppo oggi non è qui. Sarebbe stato sicuramente uno dei protagonisti dell'organizzazione. Sono depozionato, scusate, ma purtroppo Domenico oggi non potrà essere con noi. Ma sicuramente dall'assù Domenico ci ha aiutato e ci aiuterà per sempre. Ciao Domenico. Paolo abitava in questa casa e noi da qui partiamo. Quindi da ora, per favore, un minuto di silenzio per ricordare Paolo. Paolo abitava in questa casa. Paolo abitava in questa casa. Paolo abitava in questa casa. di due secondi è il vincitore di questo quarto trofeo, città di Torcoreco. Paolo abitava in questa casa. Paolo abitava in questa casa. un altro atleta Pasconino lo scorso primo dell'altezza a palco serve da tutto il gruppo grazie numero 9 Emiliano Emiliano Marcella Marcella ed arriva Katia Katia di Fulvio seconda seconda donna grazie 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 invito tutti a partecipare anche per le prossime edizioni perché è molto scenografico il territorio merita tantissimo la salita toglie un po' la possibilità di guardarsi intorno però quando ci si rilassa un po' con la discesa è fantastico complimenti a tutti per l'organizzazione siamo i migliori grazie la gara non ti annoia è veramente tecnica pianura credo zero ben ben ristorata avevamo parecchi ristori quindi nonostante la giornata non caldissima è stato previsto tutto nei particolari il percorso è ben segnato bello è il fatto che ritornando indietro si possono incontrare tanti amici che ci si salutano perché c'è un'andata e un ritorno quindi devo dire 10 all'oggo grazie Giorgio per chi non lo sapesse lui è un campione di 100 km quindi questo veramente è un spettacolo percorso grazie organizzatore spero di ancora tornare il prossimo anno e grazie voi siete bravi percorso un spettacolo che sta dicendo mi piace tutto perché come hanno organizzato giusto per ricordare noi siamo come contrato viviamo quindi basta importare i nostri amici ricordiamo sempre e bravi passatore il passatore ha avuto la fortuna di vincerlo 12 volte consecutive dal 2006 a quest'anno compreso parliamo di una gara 100 km grazie Giorgio grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti